L'incendio alla casa di cura Villa Serena potrebbe essere stato doloso. E' quanto emerge dal rapporto dei vigili del fuoco sul rogo divampato il 20 maggio scorso nella clinica privata di Città Sant'Angelo, in cui persero la vita due pazienti, un 51enne di Vasto e un 64enne di Roccamontepiano. I pompieri infatti hanno escluso che l'incendio possa essere stato causato da un problema elettrico, come ad esempio un cortocircuito, o da un fattore accidentale, ma indicano la pista colposa o dolosa. Il fuoco insomma è partito, volontariamente o meno, a causa della condotta di qualcuno. Gli avvocati dei familiari delle vittime però negano che due deceduti fossero nelle condizioni fisiche e mentali di appiccare un incendio. I due infatti erano impossibilitati a muoversi e nemmeno erano dei fumatori. I legali ora puntano il dito contro la casa di cura. Se il rogo è stato colposo o doloso, fanno sapere gli avvocati, non possono non essere coinvolti i responsabili della struttura, che sarebbero colpevoli di omissione o negligenza. Sull'incendio, scaturito da una stanza al primo piano nel reparto di riabilitazione psichiatrica, si era espressa anche l'allora ministro della salute Giulia Grillo. Faremo chiarezza, aveva detto su Twitter, ma a otto mesi dall'accaduto le dinamiche della tragedia sono ancora ignote.